eh chi è? eh? che cancello ciao marchino a zero dio seve e che c'erano? basta che arriva in fondo cazzo devo andare giù a filmare il video che saliva da là porca vacca quasi quasi no dalla nostra parche là era tutto così sì ma la nostra era tutto così in piedi però vado giù a filmare il marco un secondo tantica la tua non ti allaccio cazzo eh cazzo la nostra lì era bella impegnativa eh vado giù eh eh l'allenamento poi noi là nelle nostre fogne del cavolo ma ti alleni eh aspetta il secondo che vado giù dal marco vado giù a fargli un filmatino stavo andando a filmare il marco cazzo tanto lì c'è la coda vado a fargli un video al marco vieni subito tanto lì c'è la coda aspettiamo un secondo ai 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 questa non mi piace no però no lì ti centro devo andare giù no devo andare giù a filmare il marco un secondo perdonami ma di solito porto sfiga il gufo dai che non sei capace tu con quel cancello lì daglielo in mano al suo padrone ma guarda se ci credi meglio perché dopo non è ma pura c'è mancato c'è mancato c'è mancato c'è mancato c'è mancato c'è mancato c'è mancato